Avvocato Angelo D'Abramo, sindaco di Leporano, restate a Leporano tutta una serie di eventi che riguarderanno, che coinvolgeranno non solo Leporano, non solo il comune di Taranto e i comuni limitrofi, ma hanno un respiro di tale portata che, considerando i precedenti, certamente hanno una dimensione ultra provinciale. È tradizione ormai a Leporano alietare le serate estive con una serie di eventi. Questo è il secondo anno di questa amministrazione, abbiamo profuso il massimo impegno più dell'anno precedente. Ci apprestiamo una stagione estiva ricca di appuntamenti a 360 gradi, perché si va dallo sport ai servizi sociali, ma soprattutto alla cultura e allo spettacolo. E in tal senso, chiaramente, siamo stati attenti questa volta, non solo a fare un discorso di quantità, ma soprattutto a emergere, chiaramente, sotto l'aspetto qualitativo della proposta e dell'offerta da dare al pubblico. Ecco, è importante il coinvolgimento della base, di tante realtà anche associative. Questo crea certamente un connubio tra l'amministrazione comunale e i cittadini, tra l'amministrazione e gli amministrati. Chiaramente parliamo di associazioni validissime sul nostro territorio, ma anche associazioni esterne, che sono importanti per portare avanti il nostro programma amministrativo relativamente a queste manifestazioni. Se non ci fossero, veramente, dovremmo crearle, perché da soli non si va da nessuna parte avanti, anche se comunque noi abbiamo degli amministratori in gambe che giornalmente lavorano, profondano i massimi impegni, però chiaramente c'è bisogno anche delle associazioni che vanno valorizzate e sono importanti per il nostro territorio. Grazie. 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 Grazie.